Un pollo biologico di qualità viene allevato con un ampio spazio a disposizione per pascolare erba, che diventa un'integrazione naturale di vitamine, antiossidanti e alcuni acidi grassi polinsaturi indispensabili. Carotenoidi, vitamina E, polifenoli e omega 3 sono alcune delle sostanze che migliorano il benessere degli animali e rendono superiore la qualità della carne, con effetti benefici per i suoi consumatori. Il pascolo consente al pollo biologico un comportamento naturale, come ad esempio razzolare, che aumenta il benessere dell'animale e la qualità della carne. Le razze rustiche, utilizzate per gli allevamenti di qualità, sono capaci di pascolare abbondantemente erba, al contrario delle razze a rapido accrescimento utilizzate per gli allevamenti convenzionali. Un pollo o pollo bio ha a disposizione più di 5 metri quadri ed un pascolo erboso ricco e variegato, che garantisce una qualità superiore della sua carne.